Ci troviamo qui a Marina di Camerota, abbiamo iniziato questo tour dei vaccini per i residenti campani e somministriamo prime e seconde dosi Pfizer, Moderna, AstraZeneca e abbiamo anche Johnson. Dobbiamo somministrare un quantitativo di circa 1200 dosi al giorno di varie tipologie di vaccini. Oggi è un grande giorno per Camerota. Sul porto di Marina di Camerota si sta procedendo alle vaccinazioni delle prime e delle seconde dosi ai nostri concittadini ma anche a tanti turisti che hanno scelto la nostra località balneare. Le vaccinazioni proseguono nel pieno ordine e sicurezza, un ringraziamento speciale alla Croce Gialla, alla nostra protezione civile e al Corpo dei Vigili Urbani. Siamo pienamente soddisfatti di aver dato la possibilità a centinaia e centinaia di turisti di avere la seconda dose direttamente a Marina di Camerota senza la necessità di ritornare nel proprio paese. Nelle scorse settimane abbiamo dato la possibilità di vaccinare tutti gli operatori turistici e d'oggi ci sono molti ragazzi del nostro territorio che si stanno sottoponendo al vaccino. Ringrazio la Regione Campania, l'ASL di Napoli e di Salerno e tutti i medici e gli operatori sanitari che sono impegnati nell'emergenza. L'affluenza fino ad adesso è abbastanza importante perché abbiamo già somministrato oltre 250 vaccini Pfizer tra prime e seconde dosi.